Il nostro codice di autore Il nostro codice di autoregolamentazione e della normativa vigente. Si tratta nello specifico della 33esima trasmissione sulle 43 programmate dalla nostra emittente da qui al 23 di maggio. Riflettori puntati oggi sul comune di Sant'Egidio alla Vibrata. Poco meno di 10.000 abitanti si va al voto per eleggere il sindaco e i 10 nuovi consiglieri comunali. Sei le liste in corsa. Noi abbiamo al momento rappresentati qui in questa trasmissione 5 dei 6 candidati al sindaco che vi passo subito a presentare partendo dalla mia destra. Barbara Benuncia del Movimento 5 Stelle, Gerardo Desimplicio per Bene Comune, alla mia a sinistra Gabriele di Buonaventura Laboratorio Democratico, Marco Maloni risorse e sviluppo, Elicio Romandini della lista Noi con voi. Prima della trasmissione c'è stata una estrazione. Il primo a rispondere sarà Marco Maloni. Partiamo subito con la prima domanda. Le caratteristiche e la peculiarità della lista che lei rappresenta. Ha due minuti di tempo. Le caratteristiche della nostra lista sono limitate perché non abbiamo trovato il massimo dei consiglieri perché ne dovevamo trovare 12 e ne abbiamo trovati 9. Proprio all'ultimo momento abbiamo trovato l'ultimo consigliere dove ha consentito la nostra lista civica di risorse e sviluppo poter accedere alle amministrative del 25 maggio 2014 per la candidatura di sindaco. Grazie a tutto ciò abbiamo presentato un programma dove noi punteremo per farci approvare alcuni nostri progetti che secondo noi sarebbero utili al comune di Sant'Egidio per i bisogni e le necessità del cittadino. Cercheremo con il massimo della nostra esperienza, il massimo delle nostre forze di realizzare tutti i progetti messi nel programma. Bene, ha utilizzato tutto il tempo, 30 secondi ne sono rimasti e poi le potrà recuperare andando avanti. Elicio Romandini ha la stessa domanda. Caratteristiche e peculiarità della lista che lei capeggia? Dunque, caratteristiche. Intanto sul numero. Io veramente ne ho trovati di più di 12 e ho avuto problemi a dire a qualcuno che non poteva candidarsi. Addirittura qualcuno pensava di essere candidato con me e si è trovato candidato in un'altra lista, ma a parte questo. Quindi la difficoltà che ho avuto è stata proprio quella di dire a qualcuno niente, non posso perché ne sono troppi. Per quanto riguarda la peculiarità, come io dissi quando annunciai la mia candidatura a Paolo Antonio, dissi che questo era un progetto nuovo e quindi avrei messo persone che venivano dal mondo civile, e quindi non c'è nessuno della mia lista che ha rivestito in carichi politici nel passato. Non sono stati consiglieri, ma i candidati si sono interessati della vita del Paese, ma non hanno mai fatto politica attiva. Questa è la peculiarità principale. Credo che quello che ho detto all'inizio l'ho mantenuto. C'è molto entusiasmo all'interno, è la prima volta che succede. Certo, il candidato sindaco ha fatto politica, non smentisce quello che ha fatto fino adesso, ma penso di avere la preparazione, ma anche le caratteristiche di essere il numero uno di questa lista, di una lista civica vera, è la prima volta che succede a San Degidio. Sono convinto che faremo delle cose buone, c'è molto apprezzamento intorno a noi, c'è molto entusiasmo e questo mi rende molto contento. Tra l'altro abbiamo fatto pure un codice comportamentale. Ho detto pure che nel gruppo consigliare, prima di qualsiasi consiglio comunale che andremo a fare, a parte che parteciperanno tutti e dodici, anche i quattro che non saranno eletti, ma ho esteso il numero a questo gruppo, naturalmente senza diritto di voto, anche a quattro candidati, i proponenti candidati che non sono riusciti a inserire, che faranno parte del nostro gruppo e che ci aiuteranno comunque a fare una democrazia partecipativa vera. Bene, proseguiamo con il nostro giro. Barbara Venucci, Movimento 5 Stelle, caratteristiche e peculiarità della sua lista. Sì, buongiorno. Una caratteristica della mia lista è innanzitutto relativa a quella che è l'aderenza sul territorio, quindi tutti i ragazzi di Sant'Egidio. Naturalmente, volti ed occhi nuovi, io ci tengo sempre a ribadire questo concetto, ed un interesse ad avvicinarsi alla politica che è partito già da quasi circa due anni, quindi con una serie di interventi già sul territorio, quindi richieste alla cittadinanza in merito a quelle che sono le problematiche del territorio. Io, spesso, una caratteristica della lista la paragono anche ad una proprietà meccanica, cioè ad una resistenza alla fatica, perché noi giovani oggi siamo comunque bombardati sotto ogni punto di vista, sia perché siamo giovani ed inesperti, sia perché ci troviamo per la prima volta ad interessarci di aspetti amministrativi. E quindi indubbiamente siamo consapevoli nel dire che per danneggiarci fino alla rottura davvero dovrete sottoporci a dei carichi disumani, perché in realtà questo presente ci umilia, e quindi ci umilia, ci rende strani a tutto ciò, quindi è un bisogno quello di uscire, di dare la propria presenza sul territorio, perché soprattutto legato al fatto che è in dubbio ormai il fallimento di questi vertici finanche internazionali, quindi noi non possiamo più delegare nulla, soprattutto nessuno, e aspettare che qualcuno ci dia delle soluzioni a dei problemi che altri hanno causato. Quindi saremo assolutamente presenti sul territorio e dare risposte concrete a quelle che sono le problematiche. Bene, Berardo De Simplicio, stessa domanda, le caratteristiche e la peculiarità della lista che lei rappresenta. Sì, in vista delle elezioni comunali del 25 maggio si è costituita la lista civica bene comune, della quale fanno parte persone appartenenti a sensibilità politiche diverse, età diverse, e quindi però tutte queste persone accomunate dal desiderio di volersi impegnare per migliorare la nostra cittadina. Tutti questi giovani, perché noi abbiamo molti giovani e ci sono cinque rappresentanti femminili, queste persone intendono la politica come l'arte di essere vivere. Come ho detto l'altra volta, noi aderiamo a quella frase del Papa che è la più alta forma di carità, con la quale appunto perseguire il bene comune, e quindi noi vogliamo impegnarci in questo senso e vogliamo che siano proprio i cittadini di Sant'Egidio a darci indicazioni. A tal proposito abbiamo inviato, molti cittadini l'hanno già ricevuta, altri la riceveranno tra oggi e domani, una lettera a tutte le famiglie. legato a questa lettera c'è un questionario, dove noi chiediamo alla gente, ai cittadini, su quali ambiti intervenire, quali sono i suggerimenti, proprio perché crediamo che i cittadini sono proprio veri giacimenti di proposte, e noi vogliamo ascoltarli per poi metterli in pratica. Bene, sono rimasti circa 30 secondi che poi recupererà successivamente. In cui diamo il primo giro, stessa domanda per il microfono dall'altra parte, stessa domanda anche per Gabriele Di Bonaventura, caratteristiche e peculiarità della lista che lei rappresenta. Sì, noi siamo una lista di centro-sinistra, dove al suo interno, oltre ai esponenti del Partito Democratico, ci sono un'associazione di giovani, Laboratorio 31.3, questo numero è la media degli anni dei suoi componenti, e più è allargata agli uomini e donne della società civile santigidese, che mai come in questo momento hanno la necessità di, hanno riscoperto una passione civile, un impegno per la cosa pubblica, e vogliono mettere a disposizione le proprie risorse, le proprie competenze, il proprio tempo, per fare in modo che questo Paese possa conoscere un cambiamento, una speranza per il futuro. L'altro elemento che ci unisce anche la parola Laboratorio Democratico, Laboratorio è un luogo fisico dove si crea, si sta assieme, si condividono progetti, passioni, speranze, e questo è quello che noi cerchiamo di trasmettere all'opinione ai cittadini di Sant'Egidio, democratico, la democrazia è il valore di fondo che noi vogliamo difendere e presidiare. E tra l'altro la caratteristica, l'altra pericuralità, è il modo con cui noi ci proponiamo di amministrare, ed è la democrazia partecipativa. Vogliamo rovesciare la piramide, tornare dai cittadini, e fare in modo che le azioni politiche, le decisioni vengano prese nell'interesse e con i cittadini. Quindi una forte sensibilizzazione per i cittadini, informarli, lo faremo attraverso i principali argomenti che tratta una pubblica amministrazione, come il bilancio, il bilancio sociale, il bilancio partecipato, faremo in modo di far crescere nei cittadini, portare l'informazione e far crescere la consapevolezza. Un cittadino informato e un cittadino consapevole che può aiutare anche le decisioni e quindi a far crescere bene il Paese. Questo è quello che in definitiva ci proponiamo. E poi c'è un'altra speranza che coltiviamo, è che per la prima volta tanti giovani conoscono l'impegno politico. E questo è un bene che noi dobbiamo preservare. E non c'è solo il 25 maggio in discussione la vittoria per governare il Paese, ma c'è anche la scommessa su un futuro che questi giovani domani potranno essere la nuova classe dirigente per il Paese. Bene, finito il primo giro, si aggiunge al nostro tavolo anche Rando Angelini, candidato sindaco della lista Progetto Comune. Noi partiamo con il secondo giro, facciamo l'estrazione, dato che Angelini si sistema, facciamo scegliere De Simplicio, vediamo chi si è scelto da solo. Allora, seconda domanda, cominciamo ad entrare più nello specifico. Quali sono invece gli aspetti salienti del programma amministrativo di Bene Comune? Sempre due minuti. Noi praticamente abbiamo inviato con questa lettera i punti programmatici principali, ma non solamente quelli, perché appunto, come ho detto prima, vogliamo che siano i cittadini a fornirci le indicazioni per la cittadina stessa e anche sulle frazioni. In tal senso, come ho detto anche l'altra volta, vogliamo costituire uno sportello del cittadino e dei centri di ascolto tramite la formazione dei comitati di quartiere, proprio per avere dalla base, come ho detto, di Buonaventura, una emozia partecipativa. Io ci credo, appunto, e l'ho iniziata con l'invio di questa lettera. Poi, quali sono i punti? Ce ne sono tanti, ma posso cominciare a dire stimolare, perché il Comune non è che può assumere, può fare, costituire lavoro, però può stimolare la questione di cooperative di lavoro. E poi ci tengo anche a dire questo, che bisognerebbe in qualche modo cercare di attrarre ditte, anche di fuori Comune, magari riducendo gli oneri per poi consentire a loro di assumere le persone. Poi, in qualche modo, ridurre il condensioso, come ho detto l'altra volta, il Comune ha diversi cause e quindi vogliamo trovare una forma di mediazione, di conciliazione per dare delle soluzioni per evitare che il Comune possa soccombere e possa pagare di tasca propria. Quindi pagheremo noi tutti quanti i cittadini. Poi ci sono altri, al limite, anche nel prossimo intervento potrò approfondire meglio. Bene, sono rimasti 20 secondi che poi si aggiungono ai 30 del giro precedente. Gabriele, di Buonaventura, stessa domanda. Gli aspetti salienti del programma amministrativo della lista che lei rappresenta? Due minuti. Beh, noi, diciamo, la priorità delle priorità, lo ripeto, anche nei nostri incontri che abbiamo iniziato a fare le frazioni, è il lavoro. Dobbiamo ripensare al nuovo modello di sviluppo per il nostro Paese, perché senza il lavoro, purtroppo, la nostra società si impoverisce e drammaticamente il rovescio, diciamo, della mancanza di lavoro è il bisogno di protezione sociale, quindi sempre di più famiglie in difficoltà, la perdita del lavoro fa perdere spesse volte anche la dignità e quindi dobbiamo rimettere al centro questo. Ripensare al nuovo modello di sviluppo significa fondamentalmente ricreare un dialogo tra tutte le forze produttive del Paese e trovare insieme una rinnovata capacità progettuale per fare in modo, insomma, che Sant'Egidio, che è stato, lo ricordo, uno dei Paesi faro per quanto riguarda lo sviluppo della Val Vibrata, possa tornare a competere, a ricreare sviluppo, a fare in modo che possano tornare aziende, mettendo a disposizione, creando appunto questa occasione di incontro che è questo tavolo per l'economia e lo sviluppo che dovremmo costituire insieme alle forze produttive, alle associazioni di categoria, ai sindacati e ai professionisti per ricreare una capacità di ascolto perché solo se i problemi sono conosciuti, portati all'attenzione, forse saremo in grado di poter trovare soluzioni. Abbiamo anche immaginato di creare un fondo per favorire e incentivare le neoimprese che si costituiscono. Troveremo nelle pieghe del bilancio la possibilità di agevolare fiscalmente con degli sgravi sui tributi e quei fabbricati che possono essere rimessi diciamo nel circuito produttivo, quindi con dei canoni concordati per quelle aziende che non hanno la forza economica per realizzare un nuovo obbligo industriale, però hanno necessità di ampliamento. Quindi dobbiamo cercare di favorire. Un paese senza le imprese è un paese che muore. Il 20% delle imprese europee è italiano, il 20% della produzione manifatturiera è italiano, e in quel 20% c'è anche San Degidio. Quindi dobbiamo cercare di risolvere anche questo problema. Noi faremo esattamente questo, ci metteremo al servizio delle imprese per fare in modo che questo paese possa tornare a crescere e soprattutto a coltivare una speranza di cambiamento. Proseguiamo con il nostro giro. Marco Malloni, stessa domanda. Gli aspetti salienti del programma amministrativo e della lista che lei rappresenta. Sempre due minuti. Il nostro programma verte specialmente sul comfort del paese e le stadi, sulle ristrutturazioni, sui stazionamenti, i parcheggi, sul rimodernamento delle istituzioni, sui giovani, sul programma calcistico, sportivo, ricreativo, tante altre cose. Per il comfort in quanto far sì che San Degidio si possa trascorrere delle giornate intere stando sicuri che sia tutto a disposizione. perché il problema di San Degidio è che quando il cittadino deve fermarsi in un luogo deve subito ritornare a riprendere l'auto e andarsene perché non c'è un punto dove può parcheggiare, dove può stazionare l'auto perché nei condomini si lamentano oppure devi parcheggiare nei tratti interrati, ti devi sporcare. Ci sono manifestazioni dove richiedono che le persone devono stare lì a guardare e stare per determinate ore e con l'insicurezza che tutte queste... le auto non le ritrovano bene oppure le trovano rotte per variati motivi. Gli abitanti che vi abitano in quel centro hanno problemi perché sono bloccati ad uscire e non sanno dove devono posteggiare. E dettano determinati punti dove il comfort è la base principale del paese. L'estetica anche con le ristrutturazioni degli immobili che stanno situati al centro in quanto restano lì da anni bloccati. Sono rimasti 10 secondi. Dove sono necessari a tutta la comunità averli a disposizione, disponibili esteticamente, visti anche in modo corretto. Lei ha utilizzato i due minuti e anche i 30 secondi che aveva in precedenza rimasti. Andiamo avanti con Romandini. Stessa domanda. Aspetta i salienti del programma amministrativo della sua lista. Due minuti. Aspetta i salienti. Noi abbiamo messo al primo punto del nostro programma la condivisione con il cittadino perché è una cosa della quale abbiamo sentito parlare ma in effetti nel passato questa condivisione non c'è stata. Quindi questa è la prima cosa che faremo perché andremo ad amministrare la cosa pubblica e credo che il cittadino sia sovrano nelle scelte e per noi è la cosa principale. Poi al secondo punto abbiamo messo il bilancio perché insomma si possono dire tante cose ma il fatto è che in questo momento bisogna avere a che fare con patti di stabilità con disponibilità di denaro da poter spendere e quindi credo che il bilancio sia un punto determinante per le scelte e per le cose che andremo a fare perché è inutile inventarsi o dire, promettere cose che poi non potranno essere comunque realizzate. Al terzo punto abbiamo indicato noi la famiglia, le politiche sociali perché in questo momento particolare di grande difficoltà economica e finanziaria insomma le famiglie hanno bisogno di attenzione di essere comunque attenzionate maggiormente e le politiche sociali sono quelle che noi riteniamo che devono essere attenzionate rispetto alle altre cose. Al terzo punto abbiamo parlato di scuola perché riteniamo sia una cosa importante per i nostri giovani, il nostro futuro sarà la nostra nuova classe dirigente del domani quindi massima attenzione per gli edifici per la messa in sicurezza di alcuni edifici che non hanno ancora agibilità delle strutture e poi il lavoro il lavoro naturalmente sì, massima attenzione però credo che potremo fare poco ma quello che noi possiamo fare lo faremo lo dimostreremo come abbiamo già fatto in passato perché io insomma sono stato un amministratore in provincia quello che ho potuto fare l'ho fatto l'ho dimostrato e quindi anche ci interessa anche gli appalti quello che si farà in paese cercando nei limiti del consentito dalla legge di far restare qui comunque il lavoro ancora 10 secondi per questo poi altro oltre il lavoro l'urbanistica, le infrastrutture non trascureremo comunque le infrastrutture se ci sarà ripresa io spero a breve comunque cercheremo di far trovare comunque San Degidio e tutta la Val Vibrata pronta per comunque ripartire Angelini stessa domanda gli aspetti salienti del programma amministrativo della lista che lei rappresenta sono la continuità noi abbiamo parlato di riqualificazione del paese abbiamo trovato un paese anonimo un paese dove non c'è un'identità né di tipo urbanistico né di tipo architettonico oggi il paese invece sta avendo una propria identità le piazze sono in fase di realizzazione per quanto riguarda l'estetica e non solo perché la vivibilità di un paese passa anche attraverso un discorso di architettura un discorso di visione urbanistica diversa quel punto di vista deve essere continuato per far sì che San Degidio possa non essere più un paese anonimo il lavoro il lavoro dobbiamo dirlo ai cittadini il comune non ha nessuna competenza però ci sono idee innovative prese anche ad esempio in altri paesi come la cosiddetta Sant'Egidio lavoro non l'abbiamo chiamata mettere nel bilancio una risorsa e dare la possibilità alle imprese che assumono a tempo determinato per almeno 12 mesi o a tempo indeterminato un contributo di 1500 euro per cercare in qualche modo di stimolare non tanto la ripresa perché la ripresa non è un fattore che dipende dal nostro territorio dipende dalla nostra provincia o dalla nostra regione è un fattore che dipende dall'economia globalizzata e Sant'Egidio deve essere pronta a ripartire nel mondo in cui riparte l'economia stessa poi abbiamo pensato sempre sul lavoro di ricreare una rete cosiddetto paese dell'outlet a Torano c'è il paese del gusto noi possiamo invece reinterpretare il paese del gusto attraverso il paese dell'outlet perché questo può creare un grande indotto dal punto di vista della sicurezza abbiamo previsto di potenziare quello che abbiamo già fatto dopo il sistema di videosorveglianza un sistema invece di controllo degli accessi della città sempre attraverso il sistema di videosorveglianza che si chiama videosorveglianza intelligente ancora 15 secondi altro aspetto fondamentale è che quando si parla di partecipazione democratica bisogna capire che cosa significa la partecipazione generale per noi significa anche far sì che il cittadino possa non tanto condividere ma proporre delle proposte ad esempio andare a fare dei concorsi a idee con le università e poi presentare questi progetti alla cittadinanza stessa chiudiamo il secondo giro con Barbara Benucci e 5 Stelle aspetti salienti del programma amministrativo due minuti sì diciamo subito che le linee guida del nostro programma intanto non possono prescindere da quello che è l'immagine devastante nel nostro paese perché è un problema legato all'inquinamento ambientale è un problema che tocca Sant'Egidio un problema legato a una crisi economica finanziaria è un problema che tocca Sant'Egidio così come l'uso crescente di pesticidi ormoni antibiotici nel nostro cibo è un problema che tocca Sant'Egidio quindi nasce dunque la necessità di chiedere un ulteriore sacrificio al cittadino cioè quello di una partecipazione attiva una partecipazione accompagnata da un nostro impegno dalla nostra presenza e io la chiamerei anche da un sacrificio quasi materiale perché noi intendiamo restituire parte dei nostri consensi da dare al servizio del cittadino nasce l'esigenza di un utilizzo delle innovazioni tecnologiche proprio per rendere l'erogazione al servizio al cittadino più efficiente nasce un bisogno di una rapida diffusione di internet ma non come lo slogan wifi libero e gratuito nasce da una consapevolezza cioè che davvero nessuno deve rimanere indietro nasce l'esigenza di una rivoluzione del pensiero cioè noi davvero sederemo attorno a un tavolo e riprogetteremo tutto riprogetteremo intanto rivaluteremo la gestione dell'esistente della cura del bene comune che è intrinseca poi nella parola amministrazione rivaluteremo il concetto di rifiuto rifiuto non più visto come rifiuto ma come risorsa quindi basta con gli inceneritori basta con le discariche noi sappiamo che tutto poi torna nel circuito alimentare quindi dobbiamo salvare anche la nostra salute torneremo a parlare di occupazione utile non di lavoro perché anche la discarica è un lavoro ma non si può contrattare la salute con il lavoro quindi parleremo di occupazione utile quindi un'occupazione che rivedrà un prodotto locale preservandone la stagionalità andando a rivalutare quelli che sono gli aspetti culturali anche del cibo, dell'alimentazione quindi parleremo a tornare di benessere Bene, finito anche il secondo giro terza estrazione chiedo a Gabriele di Buonaventura di cimentarsi in questo adempimento di Simplicio il nome è più gettonato al momento terza domanda lei in parte ha già comunque fatto dei riferimenti a questo aspetto però insomma la campagna elettorale che sta proseguendo mancano meno di 10 giorni al voto vi sta portando insomma in giro per la cittadina che tipo di istanze state raccogliendo dalla gente? Qual è l'umore? Sempre due minuti Sì praticamente noi ci stiamo avvicinando i cittadini dicendo il nostro programma chiedendo allora eventualmente di darci delle indicazioni anche sotto quell'aspetto di quell'allegato che abbiamo mandato quindi volevo approfittare ancora adesso di dare altri punti come quello dello stimolo alla costruzione di cooperative di lavoro per l'integrazione per la produzione disoccupata per quanto riguarda la cooperativa agricola per la coltivazione diretta dei prodotti poi abbiamo detto anche l'incentivo alla costruzione di cooperative di tipo B l'integrazione fra gli utenti con disabilità psichiche e la posizione giovanile disoccupata poi giustamente è stato detto garantire la stabilità del bilancio comunale con iniziative atte però a sovrare le incongruenze nel senso che dobbiamo in qualche modo far entrare nella spesa corrente i tributi che molti cittadini purtroppo non pagano quindi potenziare anche qui l'ufficio tributi poi abbiamo detto pure nelle grandi piazze di creare questa riduzione del divario digitale delle forniture di connettività sul territorio comunale maggiore sicurezza anche mediante un accordo con i studi di vigilanza che possa in qualche modo girare lì si potrebbe fare coinvolgendo ditte e cittadini dalla parte del comune quindi queste risorse per dare a loro più sicurezza e quindi questo è un altro aspetto importante poi vogliamo dare anche l'opportunità di conoscere le lingue straniere anche di accedere all'apprendimento per l'uso del computer poi abbiamo detto anche per la messa a norma degli edifici scolastici ci saranno dei fondi europei che già potremmo sfruttare non so quanto tema ancora ciò il tempo per questa risposta è finito ma anche ancora 50 secondi se vuole utilizzarli in precedenza oppure andiamo avanti vogliamo dire ancora vogliamo un miglior decentramento dell'attività ricreativa dell'estate del San De Gidiese come cinema all'aperto teatro come concerti saggi di danza ginnastica artistica miglioramento della viabilità perché come ho detto l'altra volta ci sono alcune marciapiedi che purtroppo sono impercorribili mi riferisco soprattutto alla Madonna delle Grazie verso il cimitero quindi questo è inconcebibile che una cittadina che vuole in qualche modo apparire anche all'esterno più o più bella non si sia intervenduta anche su questo aspetto qua per consentire soprattutto agli anziani di poter andare a trovare i propri congiunti tempo è lei ha esaurito anche la riserva precedente quindi siamo non c'è problema proseguiamo con Gabriele di Buonaventura stessa domanda campagna elettorale che prosegue mi state incontrando la gente le istanze che arrivano dal popolo si chiamava una volta così ma continuava a chiamarsi ancora così due minuti è ancora popolo beh devo dire che diciamo gli incontri che facciamo oltre nelle frazioni ma anche soprattutto incontrando la gente incontrando nelle case le persone confermano un po' quel dato iniziale che avevamo detto quando ci siamo trovati qui il 24 di aprile quando dicevamo insomma che questa è un'amministrazione che si è distinta per la chiusura verso i cittadini chiusa nel palazzo non ha favorito il dialogo il rapporto con i cittadini un'amministrazione è tutto sommato davvero indifferente ai desiderata dei cittadini è davvero del tutto anonima per trovare diciamo un aggancio un po' alle cose che prima venivano dette e non il paese in senso e quindi questo ha bisogno di confronto di partecipare di rappresentare di trovare un'amministrazione aperta ad ascoltare cosa che invece questo non è avvenuta e questa è un'opinione largamente diffusa nel paese che noi registriamo come credo anche altri candidati che girano il territorio e quindi abbiamo bisogno di riscrivere un nuovo patto di cittadinanza dobbiamo rimetterci al servizio del paese al servizio dei cittadini perché questa comunità ha bisogno di serenità di pensare al futuro di creare una speranza nuova per il paese le cose sono tante un degrado diffuso del paese i problemi legati alle nuove emergenze che non sono solo le piazze ma soprattutto i problemi legati all'allagamento quando piove insomma abbiamo un paese da un punto di vista infrastrutturale largamente deficitario a cui dobbiamo porre rimedio e allora noi abbiamo messo nel programma nove punti di questi quello più importante che dovremmo fare amministrando adeguatamente le risorse che abbiamo fare una priorità un inventario di tutte le emergenze di quelle insieme ai cittadini attraverso il meccanismo della democrazia partecipativa fare in modo di poter assegnare le priorità in modo che di far avanzare di pari passo le esigenze con quelle che sono le prospettive e poi coltiviamo anche una speranza perché non sono solo cose fisiche pratiche da fare ma c'è soprattutto un riscatto del paese un nuovo fermento culturale attraverso la costituzione di un centro di aggregazione giovanile insomma vogliamo in modo che il paese torni a rifiorire e che le passioni le competenze le sensibilità possano trovare ascolto ospitalità e soprattutto sostegno questo è quello che farà l'amministrazione che verrà se i cittadini di 25 di maggio daranno fiducia e forza al laboratorio democratico proseguiamo con il giro con Marco Maloni stessa domanda in giro per la città in questa campagna elettorale le istanze che raccogliete dai cittadini che incontrate due minuti sì ascoltando loro anche adesso durante la raccolta firme durante la campagna pubblicitaria il problema principale è il lavoro la maggior parte del cittadino indica che la carenza di lavoro riprendendo il nostro progetto il nostro programma con la creazione la ristrutturazione di tutti questi edifici immobili che c'è da fare gli stazionamenti impianti sportivi il nuovo stadio con la curva pista d'atletica e tutto l'auditorium e la ristrutturazione dei centri per anziani sanitario e per i disabili in linea di massima avremo un lavoro coperto del 30% del fabbisogno del paese per i prossimi 5 anni sia nel campo edilizio sia nel campo tecnologie sia nel campo delle innovazioni energie rinnovabili e tanto altro logicamente far sì che il comfort sia dal punto di vista commerciale perché necessitano di interventi a livello di spazio il paese perché manca gli spazi dove poter sostare dove poter collocare i loro mezzi e ancora 10 secondi ampliando questa questa risolvendo questo problema logicamente sia sia risolto sia il problema dei commercianti sia il problema delle imprese sia il problema dei cittadini sia il problema di fuori delle persone di fuori che vengono a vedere manifestazioni che vengono a seguire tutto quello che si svolge all'interno del paese Romandini stessa domanda campagna elettorale contro i cittadini le istanze che state raccogliendo due minuti il programma che abbiamo distribuito riceve consensi naturalmente registriamo preoccupazioni da parte dei cittadini soprattutto sul passato devo dire ci preoccupa e preoccupa molto i cittadini la continuità di cui parlava l'attuale sindaco è preoccupante perché si parla di democrazia partecipativa ma in effetti anche le ultime decisioni che sono state prese dal palazzo ma non condivise con i cittadini con questo progetto Tesla che prevede un finanziamento per il comune un finanziamento una realizzazione di opere legate al riaffidamento di quella concessione per la gestione del calore a San Degidio e la gestione degli impianti di illuminazione insomma questa è la dimostrazione che il palazzo va da una parte ma i cittadini forse vogliono altro perché ci sono altre esigenze ci sono emergenze maggiori come accennava qualcuno prima c'è la rete fognaria che insomma ha esigenze particolari c'è lo smaltimento delle acque bianche con questi eventi calamitosi che tra l'altro comunque si ripetono più frequentemente certamente noi avremmo fatto cose diverse e i cittadini ce lo stanno dicendo le belle piazze e poi arrivo anche al Partito Democratico che si ripropone insomma le piazze più belle sono le piazze vuote prendere decisioni di spendere soldi così riqualificare nella maniera in cui non conosco bene i progetti ma insomma da quello che mi hanno detto e da quello che si sta facendo insomma c'è preoccupazione ci sono altre emergenze poi dico al Partito Democratico al collega qui candidato di Buonaventura insomma anche sul volantino dice questa volta questa volta il vento cambia davvero ma cambia davvero ma insomma di Buonaventura viene dall'amministrazione di centro-sinistra che hanno amministrato Sant'Egidio per 15 anni che cambia davvero insomma quindi precedentemente vi siete sbagliati adesso proponete un progetto nuovo ma insomma anche lì Sant'Egidio partiamo dalla piazza vogliamo parlare dalla piazza ancora 15 secondi avete realizzato questa pista ciclabile ma non è un fiore all'occhiello di quell'amministrazione e credo che se questa volta cambia davvero ma insomma avete dimostrato però che nel passato l'hai detto tu in quello slogan in effetti adesso cambierà davvero ma ci possiamo credere io penso di no i cittadini sono preoccupati che questo cambiamento questo cambia davvero insomma io credo che non ci sarà Angelini è il suo turno le istanze che raccogliete in questa fase di campagna elettorale lei può utilizzare i due minuti di tempo come giustamente i miei colleghi mi fanno io credo che cinque anni noi abbiamo rispettato il fatto di stabilità e abbiamo trovato tre anni di sforamento ma non perché oggi voglio criticare chi mi ha preceduto ma perché è difficile poi rispettarlo nei successivi anni abbiamo trovato un contenzioso di 740.000 euro che abbiamo dovuto pagare non grazie a noi ma i cittadini hanno dovuto pagare quasi 440.000 euro attraverso praticamente una sorta di transazione abbiamo trovato quasi 300.000 euro di parcelle per gli avvocati e li abbiamo pagati abbiamo purtroppo subito un taglio di trasferimenti di quasi 700.000 euro e comunque abbiamo mantenuto i servizi abbiamo condiviso tutto perché un sindaco ogni giorno dialoghiamo con i cittadini quando si dice che non dialoghiamo vorrei chiedere al mio collega candidato sindaco se ha condiviso la rotatoria con i santo in santo egidesi io credo di no e allora pensiamo al futuro di questo paese facciamo una campagna elettorale propositiva qual è il problema del paese quando parliamo di lavoro diciamo ai cittadini che cos'è il lavoro il comune non ha nessuna competenza però ci sono delle idee noi le abbiamo messe in campo le abbiamo proposte sono state accolte sulla sicurezza abbiamo fatto già tanto e vogliamo fare ancora di più sull'ambiente abbiamo continuato quando abbiamo trovato qualcosa di buono non è che l'abbiamo stravolto ma l'abbiamo continuato l'abbiamo rafforzato oggi ad esempio stiamo iniziando il percorso della raccolta degli oli esausti tra poco nelle famiglie arriverà una lettera che spiegherà la raccolta degli oli esausti per quanto riguarda l'ambiente sulle scuole quando diciamo che le scuole non sono state riqualificate diciamo una cosa non vera ancora 15 secondi la scuola materna è stata riqualificata abbiamo in cantiere con la preside un progetto di riqualificazione delle scuole anno per anno tenendo conto delle disponibilità di bilancio allora chiede ai miei colleghi sindaci la critica prima di tutto la bisogna fare a se stessi e poi agli altri Barbara Benucci chiudiamo anche questo terzo giro di domande in questa campagna elettorale incontri con i cittadini e le istanze che raccogliete due minuti sì innanzitutto io ci tengo a precisare che l'incontro con i cittadini noi lo stiamo avendo in piazza quindi quando si dice il porta a porta io ci tengo a sottolinearlo questo concetto che per noi davvero un'azione degna del porta a porta è la raccolta differenziata quindi aspettiamo che i cittadini arrivino da noi per proporci nuove idee e per sollecitarci a risolvere quelli che attualmente sono contestualizzati nel territorio di Sant'Egidio e poi è normale c'è questa estranetà nei confronti della politica che è in dubbia è un'estranetà che riconosciamo anche noi perché in molte cose non ci vediamo in queste promesse disattese e disilluse quindi è ovvio che abbiamo consensi da una parte perché la curiosità di chi si avvicina dice ma forse un giovane ed esperto può davvero darci la soluzione a quelli che sono i problemi del quotidiano del vivere quotidiano non è necessariamente un problema legato all'urbanistica o un problema legato a una pista ciclabile appunto piuttosto che a un problema di mobilità è un problema legato proprio alla ritrovare la fiducia nelle istituzioni nella politica ed è una richiesta di abbandono da queste maledette maschere che ognuno non si mette per interessi propri quindi noi abbiamo il bisogno di fermarci ritrovarsi e tralasciare quelle che sono le chiacchiere o il costume del nostro tempo noi davvero dobbiamo iniziare a decidere e a prendere delle soluzioni per quelli che sono i problemi del paese non solo del nostro orticello ma i paesi di tutto di tutta una serie di comuni anche limitrofi perché se vogliamo davvero riscoprire il senso di comunità dobbiamo avere anche più ampie visioni inoltre siamo consapevoli siamo consapevoli che io lo dico spesso di eroi neppie nel mondo quindi noi dobbiamo prendere questi esempi positivi per contaminarci davvero perché siamo consapevoli che nutre la mente solo ciò che la rallegra bene altro giro altra estrazione chiedo a Marco Maloni di chi inizia a rispondere alla quarta domanda sempre di semplice oggi è gettonatissimo il suo nome proviamo a entrare nello specifico di alcune tematiche politiche sociali tassazione rifiuti quali possono essere le vostre ricette per amministrare Sant'Egilia sempre due minuti per quanto riguarda i rifiuti soli urbani è logico che bisogna migliorarlo io avevo proposto nel programma che come ripeto nella lettera che ho inviato alle famiglie anche un maggior conferimento alla possibilità di trovare qualche soluzione dei rifiuti ingombranti quindi anche fuori dalla zona per evitare che molti cittadini devono aspettare 20 giorni un mese per poterli smettere quindi forse in qualche zona proprio fuori dal paese con tutte le protezioni dare anche questa risposta poi una maggiore pulizia alle aree pubbliche volevo anche approfittare degli altri punti diciamo in realtà noi appunto si parlava di fare un'azione propositiva come diceva l'attuale sindaco quindi io continuo a dire quello che noi eventualmente vorremmo fare miglioramento di iniziative culturali e sociali questo appunto sarà il convergimento dei giovani saranno loro che devono dirci su questi punti quali sono le loro esigenze poi vogliamo potenziare questa sagra estiva con lo spettacolo di intrattenimento proprio coinvolgendo tutte le categorie di giovani adulti e anziani poi come disse l'altra volta la possibilità di acquisire immobili se sono ancora integri faccio l'esempio la CNG che rimane lì a cento da tanti anni quindi eventualmente se non proprio il comune con ditte faremo parte delle ditte potremmo far acquistare questi immobili se sono ancora integri altri e magari alzare l'indice e avere un ritorno a noi come comune per mini appartamenti per poi fare una gradatoria alle necessità delle famiglie più bisognose poi ancora 15 secondi lo ho utilizzato un po' eventualmente grazie andiamo avanti Gabriele di Buonaventura stessa domanda fatta parlavamo di tre temi politiche sociali ambiente tassazioni quali possono essere le ricette due minuti è difficile in due minuti poter insomma sono delle pillole sì sì diciamo dobbiamo mantenere anche il filo di un discorso perché è vero che c'è la critica ma c'è anche con la critica c'è anche l'autocritica e dico questo per replicare un po' per dare anche un senso e un'anima a questo dibattito altrimenti diventa tutto così improvvisato finto e caricaturale noi abbiamo parlato di lavoro dire che il comune non può far nulla è un chiamarsi fuori come è avvenuto in questi cinque anni magari quelle proposte che adesso ha rappresentato il sindaco uscente potevano essere presentate alla cittadinanza agli operatori negli anni in cui la crisi maggiormente ha colpito il paese invece si arriva quasi dopo cinque anni quindi bisogna anche recuperare il senso delle proporzioni il comune si deve spendere oggi è un problema anche di cultura non solo politica ma anche cultura amministrativa il comune oggi è chiamato ad assumere ruoli e competenze diverse questo è quello che si chiede oggi perché c'è un momento storico particolare e non possiamo richiuderci nel fare le piazze nel fare tante cose che sono necessarie poi anche su questo diciamo la verità stiamo mettendo il paese queste piazze stiamo spendendo un milione e 600 mila euro più gli oneri l'iva gli interessi con un progetto con la finanza di progetto allora quando diciamo costo zero perché questo viene venduto nelle case dei cittadini attraverso un deputy che è arrivato in questi giorni tra l'altro un costo di 13.500 euro che è vero che è stato posto a carico dell'impresa committente ma che è come quando io vendo un bene o acquisto un bene se lo devo consegnare è chiaro che il trasporto poi incide nel prezzo è così anche questo tra l'altro anche in maniera poco elegante è stato anche presentato questo materiale istituzionale è stato presentato in occasione di un'iniziativa politica quello è documento pubblico che deve essere inviato ai cittadini e non oggetto di campagne elettorali ancora 15 secondi dobbiamo recuperare anche le proporzioni nel nostro agire va bene la lotta politica però le regole vanno rispettate e dobbiamo essere seri e coerenti poi dopo replicherò nell'altro mi correva questo e anche il vendo che cambia davvero io ho ministrato dieci anni in questo paese sono stato vice sindaco l'ho giunto a Benucci l'ho servito con onore e credo che è stato uno dei periodi più belli che il comune abbia attraversato abbiamo ricostituito un orgoglio nel paese un riscatto sociale nella vibrata insomma facciavamo parlare di noi per le cose che facevamo e quell'impegno l'ho ancora mantenuto quella passione ed è quello spirito che ancora mi anima perché non posso vedere questo paese ridotto in questo modo e quindi il mio impegno nasce da questo il vento cambia davvero perché cambia questo non solo la voglia di amministrare e voler bere a questo paese ma soprattutto dargli una prospettiva che manca anche nei ragionamenti e nei programmi siamo sempre le solite persone devo fermarla perché ha sparato il tempo Marco Marco Maloni stessa domanda politiche sociali le tassazioni e rifiuti quali le vostre ricette due minuti quando riguarda le tassazioni cercheremo di essere al massimo su l'ammortizzare tutti i costi le spese che un cittadino ha ed essere flessibile soprattutto per quanto riguarda invece l'ambiente sia dal punto di vista della cura delle strade del verde dell'agricoltura l'industria il commercio cercheremo di rendere il paese pulito confortevole e accessibile soprattutto sia negli spazi come ripeto sia nel rendere fattibile ciò che noi vogliamo realizzare come ripeto in primis soprattutto cercheremo di portare a termine un stazionamento fatto da un edificio grande su due tre piani dove poter allocare queste auto dove al centro di Sant'Egido non può più continuare nei prossimi anni ad avere questo problema deve risolverlo immediatamente sono rimasti 40 secondi se vuole utilizzare pure un altro fattore importante che al momento Sant'Egidio ha è il lavoro logicamente con con queste strutture queste realizzazioni logicamente si creeranno posti di lavoro che nei prossimi anni con bandi con corsi eccetera riusciremo a coprire non dico totalmente ma gran parte del problema lo riusciremo sicuramente a coprire Romandini stessa domanda temi specifici politiche sociali una piccola risposta a sempre perché insomma ha chiamato in causa l'autocritico sarà comunque l'ultima domanda nella quale uno potrà utilizzare il tempo sia per delle repliche sta partendo adesso due minuti comunque no volevo dire la risposta al sindaco Rando insomma io quello che dico l'autocritica sicuramente c'è intanto quel progetto non prevede soltanto realizzazione di rotonde ma è un progetto di un milione e settecento mila euro che è veramente comunque a costo zero perché è un investimento che ha fatto la provincia su una rimodulazione di quel finanziamento di sei milioni che è stato fatto dal sottoscritto quale assessore dei lavori pubblici alla provincia per quanto riguarda la condivisione con i cittadini questa era un'opera se parliamo solo di rotonde ma una piccola parte di quel progetto quella rotonda era un'attesa da Sant'Egidio da tutti da tutte le amministrazioni precedenti per riqualificare il centro di Paolo Antonio per creare su sei strade perché c'è un incrocio di sei strade per permettere l'eliminazione dei semafori e tutta la riqualificazione che faremo la vedrete e per quanto riguarda la condivisione io quel progetto l'ho portato l'anno scorso in consiglio comunale tanto che ho ricevuto i complimenti del sindaco stesso che è qui presente quella sera addirittura aveva proposto comunque di illustrarlo ai cittadini poi abbiamo detto lasciamo perdere perché tutto il territorio provinciale è nelle condizioni in cui sappiamo con i vari eventi calamitosi e decidemmo di no ma non solo da parte del sindaco ma anche da parte della minoranza da Luigi Medori da Nunzio da Stefania da tutta l'amministrazione sia di maggioranza che di minoranza oggi siamo in corrispondenza di elezioni politiche naturalmente quel progetto viene criticato ma insomma è stato elogiato quando io l'ho presentato l'anno scorso lo stiamo realizzando con tantissime difficoltà mi si sta impedendo comunque di andare avanti con i lavori ma lo diremo quando ci sarà più tempo in merito all'ambiente ma l'ambiente io quello che devo rimproverare pure che insomma no parliamo per esempio di impianti fotovoltaici che ha depoturpato il nostro territorio è stato fatto un regolamento quando gli impianti erano stati già realizzati quindi questa è una colpa che io assolutamente devo rivolgere all'attuale amministrazione ancora 15 secondi per quanto riguarda di Buonaventura insomma sul fatto che dice io credo che quella frase sia veramente contraddittoria perché insomma c'è stata una piccola interruzione di 5 anni da parte del sindaco Angelini ma insomma siete stati in amministrazione 15 anni e dire adesso veramente cambia davvero ma insomma 5 anni è una piccola interruzione avete amministrato per 15 anni e se deve cambiare deve cambiare pure quello che avete fatto per 15 anni e siete stati in amministrazione insomma gli amministratori siete stati voi Angelini stessa domanda politiche sociali tassazione ambiente rifiuti due minuti sappiamo tutti e lo dico anche e lo rivolgo ai miei colleghi sindaci quando parlano di politiche sociali che le politiche sociali sono una sono condivise con tutta l'Unione dei Comuni noi realizziamo il piano di zona approvato dall'Unione dei Comuni e approvato dai singoli consigli comunali che poi condividono il progetto del piano di zona per portarlo ai cittadini fondamentale è poi quello che ha fatto l'amministrazione in questi 5 anni noi raccontiamo una cosa appena siamo entrati abbiamo parlato con le famiglie che hanno ragazzi diversamente abili mi chiedevano perché i ragazzi non possono andare in piscina all'estate non c'era nulla c'era solo un progetto per ragazzi normodotati noi abbiamo fatto sport anch'io ci hanno chiesto come mai non c'è la stessa condivisione con i ragazzi normodotati per quanto riguarda le strutture noi lo abbiamo fatto abbiamo dato uno spazio una dignità come gli altri abbiamo condiviso questo progetto con loro e il progetto autonomia oggi è l'esempio di tutta la Val Vibrata questa associazione va in giro per gli altri comuni proponendo quello che è stato fatto a Sant'Egidio per quanto riguarda l'ambiente ho già detto che abbiamo migliorato la raccolta differenziata perché non tutto quello che noi ereditiamo è negativo l'abbiamo migliorata ma portando anche la frazione del vetro e delle lattine al porta a porta diretto e oggi partiamo con la raccolta degli oli esausti quando diciamo che non è vero che c'è una finanza derivata io non capisco francamente quello che si dice Sant'Egidio è il primo paese di tutta la regione Abruzzo che sta portando avanti il progetto Tesla loro lo chiamano in provincia di Teramo un progetto paride noi l'abbiamo chiamato progetto Tesla è stato appaltato e oggi tutti i sindaci non solo della Liberata ma della provincia di Teramo guardano con grande attenzione quello che gli altri pensano e noi realizziamo 3 milioni di euro ancora 10 secondi investimenti quando dico a costo zero perché non c'è un'unica risorsa nel bilancio comunale a differenza del candidato sindaco Gabriele Bonaventura che con il loro piano regolatore ha drenato 6 milioni di euro ai cittadini di Sant'Egidio Barbara Benucci e chiudiamo anche il quarto giro i temi le pillole erano politiche sociali ambiente tassazione la vostra ricetta sì una piccola premessa questo modo di sminuire chiunque anche l'operato per elevarsi a maggiore visibilità è un modo che non ci appartiene tengo a precisare questo perché i cittadini oggi hanno bisogno di risposte e non di sentir dire è colpa tua ma no forse è sbagliato qui adesso ci sono io che faccio tutto e salverò la patria politiche sociali allora la politica sociale innanzitutto lo dice la parola stessa deve dare prevenzione e soprattutto ridurre quelle che sono le condizioni di bisogno e di disagio delle persone e delle famiglie quindi la linea diciamo di principio che dovrebbe essere preservata è innanzitutto l'individuazione di tutti quei criteri generali di una programmazione di interventi di integrazione con delle strutture già inesistenti abbiamo sentito che c'è già attualmente l'unione dei comuni che ha dei servizi e quindi noi soffriamo dei servizi appunto da questa struttura come ad esempio un servizio di assistenza domiciliare per anziani per over 65 e disabili ecco quindi che cosa vuole fare il movimento 5 stelle di Sant'Egidio vuole potenziare questi servizi come innanzitutto attraverso delle risorse che noi stessi tagliando i compensi sia del sindaco che degli assessori apriremo un fondo destinato al sociale quindi andremo a rivalutare quelli che sono tutti gli standard di tutela abitative per le fasce minori e quindi più emarginate quindi andremo a rivedere quelle fasce patrimoniali il parametro ISE che dà poi l'esonero al servizio intendiamo promuovere un progetto di pronto farmaco che in associazione con collaborazione con le associazioni di volontariato e con le farmacie darà disponibilità a chi è malato chi è impossibilitato anche a muoversi quindi dovicilio cureremo quelli che sono gli aspetti legati agli organi comunitari e internazionali perché io ci tengo a precisare siamo 10 persone all'interno della nostra lista si parlano 5 lingue inglese francese tedesco spagnolo e viva Dio anche l'italiano quindi poi adesso che ci muoveremo sul territorio andremo meglio sul dettaglio di quello che è anche la tassa su rifiuti e le varie problematiche legate al sicuro ultima estrazione con Romandini l'avrei tolto allora Malone Malone allora l'ultima domanda che racchiude poi i vari concetti la possibilità per ciascun candidato partendo da Malone di trattare argomenti che non abbiamo trattato di replicare a qualche intervento e soprattutto perché i santi Gillesi dovrebbero votare la sua lista a tre minuti di tempo sì cercheremo il voto di più persone possibile di prendere un gran numero di cittadini in maggioranza per far sì che questi progetti verranno approvati e realizzare ciò che abbiamo in mente di realizzare nella nostra comunità nel nostro territorio per i nostri cittadini al servizio di tutta la comunità tutto per far sì che ci sia nel nostro paese comfort più entrate miglioramento nel futuro lavoro e ripreso quindi risorse sviluppo è il nostro partito io sono il candidato sindaco Maloni Marco logicamente vorremmo un gran numero di voti per poter proseguire questo nostro programma tutto qua ancora due minuti vorrei ancora parlare del programma in cui noi abbiamo il progetto di portare avanti che sta soprattutto sui giovani sull'ampliamento dello stadio la creazione di una pista di atletica una curva dove poter fare anche manifestazione visto e considerato che San De Giro la vibrata ha più di dieci squadre calcistiche dal settore giovanile alla prima squadra dove logicamente oltre alle partite che si svolgono durante la settimana ci sono anche i tre allenamenti per ogni settore dove logicamente necessitano dei posti dove potersi allenare e quindi con l'ampliamento del centro di Faraone vecchio la ristrutturazione la strada che dovremmo fare con il collocamento con Civitella del Trondo realizzare anche lì un centro sportivo dove poter svolgere anche attività sportive ampliare e avere tutto un servizio migliore per la comunità Ancora 30 secondi se non andiamo avanti Anche per quanto riguarda i mezzi pubblici creare dei dossi perché si fermano i mezzi pubblici si fermano in mezzo la strada e tutte le macchine che stanno dietro logicamente la viabilità la viabilità e soprattutto intervenire su quel punto di viabilità gli spazi e queste cose qua Romandini la possibilità in questa ultima domanda risposta di focalizzare l'attenzione su alcuni temi che non sono stati trattati le priorità e perché i santicinesi dovrebbero votare la sua lista tre minuti dunque intanto voglio rispondere con grande affetto a Barbara a dire che se ci diciamo tra di noi io come te non ho mai amministrato qui a Sant'Egidio quindi intanto a dire quello che non faremo perché sono stati errori del passato e quindi dobbiamo dire qualcosa su quello che è stato fatto non si tratta di accusarsi né di elevarsi per dire a livelli più alti rispetto agli altri ma solo con grande affetto e dico perché io e te poi non abbiamo mai amministrato questo paese voglio subito dire una domanda al sindaco attuale sulla tassazione perché non ho risposto prima a chiedere per dire come sono state ripartite le quote di tassazione perché ho sentito parlare di un 10% intanto poi il restante 90% invece sarà detto ai cittadini dopo le elezioni e questa è la prima domanda che voglio fare la seconda domanda la seconda cosa che volevo dire per quanto riguarda i rifiuti prima non ho parlato ma insomma anche lì c'è la presenza di un privato ci sono controllati e controllori insomma io credo che ci vuole un maggiore controllo a quello che si sta facendo per quanto riguarda il trattamento dei rifiuti qui in Valvibrata e poi per quanto riguarda dicevo torno sull'argomento principale insomma che era che è quello di dire le istanze e perché ci devono votare io dico che insomma la politica nazionale il fatto che non è che rinnego il passato io sono stato in un partito ho fatto quello che il partito mi ha detto quando ci sono stato cose che altri non fanno è perché ne abbiamo la dimostrazione politici che passano da una parte all'altra che condividono progetti e idee oggi sì domani invece la cambiano la poltrona però non la cambiano mai io non condivido più quel tipo di politica e ho deciso comunque di candidarmi a San Degidio una cosa che voglio dire è che insomma a livello nazionale politico ce ne sono tante di strutture insomma le stiamo sentendo anche la nascita di movimenti per dire di ribellione a certi modi di fare devo dire che una cosa buona l'hanno fatta che è quella dell'elezione del sindaco in forma diretta e quindi questa è una cosa buona che dobbiamo apprezzare e dico che qui noi siamo tutti e sei qui e voglio rivolgere un appello ai cittadini a dire sceglietevi il vostro miglior sindaco non disperdete il voto perché questo è un momento importante oggi si elegge il vostro sindaco il 25 di maggio scegliete prima il sindaco non disperdete il voto attraverso la preferenza che si dà all'amico o a cui non si può dire di no prima scegliete il vostro candidato sindaco per i prossimi 5 anni dopodiché andate sulle preferenze questo è l'appello che voglio fare per quanto riguarda l'appello di votare la lista civica numero 1 Felicio Romandini insomma perché ritengo comunque senza falsa modestia di avere le capacità di poter amministrare questo paese ho le idee chiare non ho fatto compromessi con nessuno non ho accettato per dire promesse che riguardavano anche la mia persona ho detto che Romandini non è in vendita io faccio compromessi l'ho detto e l'ho fatto perché sono riuscito a fare una lista addirittura non che sono riuscito mi sono avanzati i componenti devo dire che questa lista ha le qualità per poterlo fare ha una lista competente con persone che vogliono fare che hanno entusiasmo di fare per questo comune a partire da sottoscritto e ci sono tutte le condizioni per poterlo votare grazie Angelini stessa domanda nei tre minuti la possibilità di trattare qualche argomento e soprattutto perché i santi egidesi dovrebbero ruotare la sua lista l'assessore provinciale del PDL Luigi Romandini è stato qui con noi per cinque anni e vorrei chiedere a lui quale risorsa portava nel territorio i 6 milioni di euro di cui lui parlava sono 6 milioni di euro dell'aggiunta d'agostino di cui ero consigliere provinciale non ha avuto non sovrapponiamoci sulle risposte non c'entra assolutamente nulla non ha avuto non ha avuto nessuna se si innervosisce non ha avuto nessuna io non ho nessun merito sui 6 milioni di euro portati in Val Vibrata caro assessore Romandini però sono soldi del 2008 lo ha rimodulato infatti quei 6 milioni di euro servivano però adesso dovevo avere il tempo servivano tranquillamente per un tratto di strada dal casello dell'autostrada al campo di Alba Adriatica è stato rimodulato per potenziare la 2,59 però io chiedo all'assessore Romandini in 5 anni cosa ha portato nei bilanci del 2009 del 2010 del 2011 del 2012 del 2013 del 2014 nel nostro comune quindi dire che sia il nuovo non mi sembra noi 5 anni fa abbiamo chiesto un ricambio generazionale come chiedo anche a Gabriele di Buonaventura penso che noi dovremmo proporre qualcosa al paese la risposta che ha innervosito l'assessore Romandini francamente dobbiamo dire esattamente quello che noi abbiamo fatto perché noi siamo tre amministratori scienti in diverse situazioni io propongo la continuità quando parlo di sicurezza dico che quello che ho fatto 150.000 euro di videocamere di sorveglianza 29 punti sorvegliati e oggi il cittadino ha bisogno ancora di più di poter condividere con noi quella sicurezza che non c'è e allora come l'abbiamo proposta attraverso un sistema intelligente di sorveglianza agli accessi della città quando parliamo di sicurezza del pedone noi parliamo tranquillamente ai cittadini e diciamo noi abbiamo creato gli attraversamenti pedonali per la prima volta nel nostro paese oggi li stiamo progettando davanti alle scuole perché lì c'è una difficoltà è vero bisogna fare di più bisogna fare marciapiedi per la sicurezza del pedone quando parliamo ad esempio di condividere con delle società la sorveglianza notturna noi questo già l'abbiamo fatto e l'abbiamo condiviso abbiamo messo a disposizione di questa società il nostro contributo e poi le società stesse hanno condiviso con gli operatori del settore quando parliamo di ambiente quando parliamo di tassazione noi siamo l'unico comune forse non lo so d'Italia che siamo riusciti perché quando noi siamo entrati la Tarsu la facciamo pagare nell'anno successivo e quindi non diciamo nulla nessuna bugia cittadini anzi ci sembrava assurdo che lo Stato impone ai comuni la Tares caro assessore e noi la dobbiamo far pagare contemporaneamente ancora 15 secondi abbiamo invece la forza di bilancio forse di fare meno investimenti ma di non gravare sui cittadini che si trovano in grande difficoltà quando parliamo di lavoro non ci sottraiamo a nulla abbiamo fatto delle proposte concrete e per questo continuiamo a lavorare per i prossimi 5 anni Barbara Benucci ultima domanda anche per lei la possibilità di focalizzare l'attenzione su temi non trattati e soprattutto perché i Sant'Egisi dovrebbero votare alla sua lista 3 minuti voglio peccare di presunzione oggi voglio fare una critica al mio sindaco e vi faccio vedere come con i toni e con i contenuti si riesca a fare anche una critica costruttiva parlando delle videosorveglianze in particolar modo per la sicurezza per rispondere a quella che è la domanda di sicurezza dei cittadini è vero che in Italia la videosorveglianza è una strumentazione sempre più diffusa perché comunque ha quella diciamo componentistica di deterrente ma in realtà non è stata mai mai portata a discussione in maniera articolata quella che è la limitazione di questa strumentazione in particolare una inadeguatezza dei tempi di raccolta di raccolta di dati perché non sempre le telecamere sono accese una mancata come dire variazione e condizione delle variazioni stagionali e soprattutto una analisi concentrata sui dati statistici di quello che è gli aspetti diciamo del crimine perché dobbiamo pur sapere quelle che sono conoscere quelle che sono le performance del crimine se ci sono crimini violenti oppure semplici furti o danneggiamenti quindi in più l'aspetto anche della manutenzione che non è poi così tanto economica vedete come si fa una critica costruttiva poi per quanto riguarda l'appello questi sono pochi istanti che io voglio dedicare non rivolgendoli a un appello al voto rivolto al cittadino perché secondo me anzi io credo che il cittadino sappia come votare è solo una questione di coraggio cioè il 25 maggio in quell'urna deve essere solo con la propria coscienza in realtà invece io vorrei vorrei esortare i miei competitor ad una riflessione una riflessione che spero arrivi arrivi di notte di notte quando le luci del giorno calano e quando ogni forma di competizione svanisce ed è proprio in quel momento che vi chiedo di riflettere su quello che oggi noi giovani stiamo promuovendo perché sono delle idee che potrebbero essere dei vostri figli dei vostri fratelli e allora non potrete non capire perché questa accesa lotta verso questo sistema perché scaturisce da una nostra eredità morale no e soprattutto perché noi è una storia anche un po' che si ripete perché i nostri genitori un tempo hanno lottato contro questo sistema per gli stessi magari identici motivi e quindi questo cambiamento significativo probabilmente non arriverà mai ma che cosa ci rimarrà ci rimarrà una lezione di vita ancora 15 secondi prima di una lezione politica e questo ci rimarrà non so la voce tremante gli occhi lucidi ma sicuramente un cuore impavido che ci conserverà la nostra dignità ecco noi l'ultimissima cosa per questo motivo sarà l'ultima cosa che farò l'ultima cosa che faremo ma non indietreggeremo assolutamente nemmeno di un millimetro Berardo Di Simplicio ultima domanda anche per lei la possibilità in questi tre minuti di focalizzare i temi non trattati soprattutto perché i santi cinesi dovrebbero votare la sua lista si completo nel 2017 scadrà il piano regolatore quindi rivisitazione del piano regolatore con il confeggimento di tutta la cittadinanza perché ci sono persone che in passato hanno fatto delle proposte di intervento non l'hanno realizzata quindi dovremmo chiedere a loro come fare poi soluzioni concrete per l'area del campo sportivo vecchio ne parlai pure l'altra volta e qui dovremmo coinvolgere le ditte i tecnici locali per vedere che cosa bisogna fare poi soluzioni concrete proprio per aiutare le famiglie in difficoltà sono d'accordo in fondo sociale ma di fatto era quello che io disse anche l'altra volta sempre su un criterio dell'ISE per le persone più diseggiate quindi un'attenzione solidale a tutte le associazioni cattoliche e laiche quindi soluzione anche per migliorare i centri anziani quindi chiedere a loro come poter fare poi per quanto riguarda l'amministratore in generale qui senza nessuna polemica l'amministratore deve cogliere tutte le opportunità che la legge nazionale eventuali delibere regionali possono dare al comune quindi essere attenti per cercare quindi di mettere in pratica con gli atti amministrativi tutte queste opportunità proprio per favorire i cittadini senza polemica personale l'attuale amministrazione l'ho detto anche l'altra volta ha contratto un mutuo per vent'anni per un'opera non era necessaria un altro campo sportivo magari poteva accedere un mutuo per altre opere più importanti faccio un esempio è stato realizzato i cinque anni passati da comuni più o meno della stessa grandezza di Sant'Egidio ce l'hanno e Ortona hanno sviluppato il discorso del fotovoltaico nelle zone anche limitrofe proprio per evitare l'impatto ambientale però con un ritorno economico per le famiglie quindi si poteva in questo modo vendere l'energia elettrica e far abbassare le tasse quindi questo non è stato fatto a questo punto vorrei dire io insieme agli altri amici dell'estra civica ci proponiamo ai cittadini dicendo che se non avremo la possibilità di governare continuo personalmente io e gli altri ad applicare in opposizione le idee e le proposte dei cittadini e del programma nel caso in cui ci daranno la fiducia applicheremo fino in fondo quindi colgo l'occasione per salutare i cittadini e faccio un appello a nome di tutti i componenti della lista civica bene comune affinché ci diano fiducia esprimendo con il proprio voto la preferenza alla nostra lista è tutto con una promessa che tutto si svolgerà nel dialogo nella solidarietà con trasparenza nella legalità e senza sprechi grazie a De Simplicio Gabriele di Buonaventura chiudiamo la nostra trasmissione tre minuti anche per lei per toccare alcuni dei temi non analizzati e perché i santicisti dovrebbero votare la sua lista io penso che il paese sia maturo per il cambiamento si coglie questo attraverso gli incontri che facciamo c'è un bisogno di cambiamento di marcare una discontinuità un cambio di passo nel paese noi abbiamo realizzato questo progetto politico non è la somma di persone che si mettono in lista e basta c'è un progetto dietro c'è un progetto che avanza da tempo e dove io mi sento orgoglioso di poterlo rappresentare farò il sindaco lo farò a tempo pieno se i cittadini mi daranno la fiducia lo farò mettendomi in aspettativa quindi per i prossimi cinque anni farò questo nonostante lavori adesso a Forlì dal lunedì al venerdì ma questo non mi impedisce ora di fare la campagna elettorale perché sono in aspettativa non ritribuita per impegnarmi per il mio paese perché io sono di Sant'Egidio non ho mai cambiato la residenza sono stato amministratore per dieci anni con il consenso dei cittadini non ho occupato abusivamente il comune mi hanno eletto per ben due volte ci hanno dato fiducia e penso che nel paese questo quello che abbiamo fatto è rimasto e se non altro nella consapevolezza delle persone che sono una persona seria con cui si può parlare sono una persona umana che vive come tutti gli altri la quotidianità la fatica la sofferenza di tante famiglie del paese avendola anche conosciuta e frequentata quella sofferenza io penso che questo paese ripeto può cambiare e noi questo dobbiamo rappresentare lo facciamo non solo per governare bene questo paese che al nostro giudizio ripeto al nostro giudizio perché il giudizio supremo è quello degli elettori quindi le mie non sono critiche ad Angelini o ad Elicio Romandini sono un giudizio su un operato che purtroppo è osservato il periodo di chi ha governato noi adesso non ci sia no parlo tu hai governato in provincia lui ha governato ha governato in comune quindi siamo anche una risposta a una forza tranquilla serena perché siamo l'unica forza di centro-sinistra lavoriamo per unire abbiamo questo nell'animo costruire insieme cosa che invece non possiamo dire dello schieramento avverso dove lo abbiamo anche ascoltato in questo dibattito quante sono le distanze di questi componenti di due liste che appartengono allo stesso schieramento politico e che si sono fronteggiati in questi cinque anni questo è il modo con cui hanno governato il paese non trovando la possibilità di stare uniti divergendo su tutto quindi non vogliamo che il paese precipiti ancora nella divisione noi vogliamo essere un elemento aggregante vogliamo ritrovare una comunità riscoprire il senso di appartenenza di una comunità e mettiamo l'impegno la serietà delle nostre proposte e dei temi che stiamo apportando nel paese e sulle tante cose il lavoro vedrete cosa potrà significare noi non promettiamo posti di lavoro come purtroppo avviene in questi in questi scampoli di campagna elettorale noi proponiamo un nuovo modello di sviluppo una condivisione soprattutto tra le forze produttive del paese per recuperare una capacità di progetto che è mancata in questi anni proprio in questi anni più difficili e allora si toglie senso e contenuto non si può immiserire il contenuto di una proposta bisogna capire e stare a capire le imprese io sono un uomo delle imprese perché le rappresento e quindi so cosa significa quello che dico e quello che potrò fare il mio impegno per il paese è totale il 25 maggio credo che il paese hanno un'unica alternativa laboratorio democratico Gabriele di Buonaventura sindaco del paese se i cittadini ci daranno la fiducia come io spero e credo grazie Gabriele di Buonaventura grazie a Marco Malloni grazie a Alicio Romandini grazie anche a Rando Angelini Barbara Benucci e Leonardo De Simplice lo spazio di comunicazione politica dedicato al comune di Sant'Egidio finisce qui noi vi ringraziamo per l'attenzione vi vogliamo un buon proseguimento di giornata grazie a tutti 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 grazie a tutti